Piazza Affari archivia la seduta in rialzo al termine di una giornata che si era aperta con il segno meno. L'indice MIB segna un più 1,08% mentre l'Italia All Share guadagna lo 0,97%. Sabile è il Piz Star con un più 0,01% a quota 37.905 punti. Milano, la migliore in Europa, inverte la tendenza grazie agli acquisti sul comparto bancario, effetto del calo dello spread, ma anche sugli energetici. Intanto lo spread tra BTP e Bunde tedeschi chiude a quota 223 punti con il rendimento del decennale al 2,70%. Tra le piazze finanziarie Parigi chiude a meno 0,07%, Francoforte cede lo 0,23% mentre Londra arretra appena dello 0,03%. A luglio, secondo i dati Istat, si stima un calo congiunturale per le esportazioni del meno 2,6% e un aumento per le importazioni del più 2,4%. La pressione congiunturale dell'export è da scrivere prevalentemente all'ampia diminuzione delle vendite verso i mercati extra-Unione Europea, mentre quella verso l'area UE è meno intensa. Nel trimestre maggio-luglio, rispetto al precedente, si registrano incrementi su entrambi i flussi, più intensi per le importazioni, più 3%, che per le esportazioni, più 1,2%. Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all'incremento delle esportazioni sono Francia, Germania, Svizzera e Spagna. La Banca Centrale Europea ha presentato il nuovo banco note da 100 e 200 euro che entrerà in circolazione il 28 maggio 2019. Sono gli ultimi due tagli della serie Europa che viene così completata. Le banco note da 100 e 200 della serie Europa sono dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e innovative. Come gli altri tagli, nuovi biglietti sono facili da verificare applicando il metodo toccare, guardare e muovere. Le nuove banconote hanno dimensioni diverse rispetto a quelle della vecchia serie. Entrambi i tagli hanno la stessa altezza del biglietto da 50 euro. Tuttavia, la lunghezza resta invariata rispetto alla prima serie e proporzionale al valore della banconota. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi del 2018 evidenziano nel complesso un incremento del 2% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 2.361 milioni rispetto allo stesso periodo del 2017, con un più 0,9%. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incassi contributivi dei primi sette mesi del 2018 si sono attestati a 134.409 milioni, in aumento del 4,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Intesa San Paolo, attraverso il Fondo di Beneficenza, contribuisce alla realizzazione del progetto 10.000 orti in Africa, uno dei più importanti di Slow Food in Africa, che nel 2018 ha superato i 3.000 orti sostenibili realizzati coinvolgendo oltre 50.000 giovani africani. Il progetto sostenuto da Intesa San Paolo con 475.000 euro si sviluppa in Uganda, a durata triennale, e mira a favorire la sostenibilità economica dei piccoli coltivatori ed assicurare alla comunità cibo fresco e sano.